Una falda, una falda, una falda, una falda, vai raga Sì è già partito Ah ciao ragazzi Ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovo video di MXRider908 Incredibile Stasera ospiti che Madonna Campione MGP Sidecar Due Non lo so E' un binguini Allora stasera facciamo una cosa veramente speciale Siamo qui con Salva Incredibile Pilota incredibile Thomas e Dennis E c'è Aldo lì dietro che però non c'è Stasera faremo un whip contest ragazzi Il primo whip contest su questo canale Quindi abbiamo preso una pista a caso di freestyle Abbiamo quanto? Uno o due minuti a testa? Due minuti a testa Due minuti a testa Sì Due minuti a testa e dobbiamo whipare il più possibile Alla fine vedremo chi farà il punteggio più alto Ovviamente Dai inizio io Vai Lucas Glock Ma la sto registrando No ho sbagliato Sono venuto a giusti avversari Nooo Nooo Tutto a posto eh Bravo Dai dai Bravo Bravo Dai La Morrison Nooo C'è un partaggio di Maybe Gazzi sono emozionato Che fai gente si asserà Non faccio te assi Eh la officially Oh Occhio Passimo Passimo io ho già perso 2 minuti è tantissimo ragazzi no? è un po' tanto no no va bene va bene l'importante è fare tutti i possibili ecco vedi che hanno sentato un po' tanto cambiamo giro adesso Piero mi freghi doppio rampona rampona Piero se mi freghi perché dopo non mi danno in giro aspetta aspetta hai un minuto di tempo si si ma sto perdendo un sacco di tempo ma tu mi sdraio ma tu mi sdraio ma tu mi sdraio ma tu mi sdraio se ne faccio farne ancora uno o due e due e cinque per le garantie tre dunque pure un altro gas perfetto questo oh madonna che ansia che ansia che cazzo che è un po' di uno che è un po' di uno bellino ho ancora due ancora due è un po' di uno è un po' di uno minchia questo qua è atomico nooo spero che me lo salvi quando cioè che me lo tenga muo nooo acazzurro nooo 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 ma cosa diversi sasso cos'hai sconfato eh ahahah ahahah oddio quanto fatto 9.39 9.39 9.39 9.39 39. Allora, il mio punteggio non si vede, non si vede. 9.39 prossimo Ryder Thomas. G.H. Incredibile. Siamo carichi così, 3, 2, 1 facciamo che metto un bomber batito che emozioso che emozioso è la madonna è la madonna però se è metà barra del cipollino, 3 bella questa quello col piediro lo fa sempre questo è un amato però bello vai vai no no te l'ha preso devi dati proprio il flow mingra è curva lo serravallo esatto e qui ti dall'altra parte io da l'amore se non è una questione non mangi non mangi non mangi non mangi come se non dire qua sembra il salto centrale in serravallo uguale il salto dei genitori il salto dei genitori tu sai il salto dei genitori no no sto perdendo tempo no no sei la visita no 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 bella quella non fissare i genitori vai vai muerto 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 no no pazzesco ma questo pazzesco si 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 te l'ha preso aia siamo in piedi sei davanti così fa il 9,50 eh si sei davanti così cortissimo pooh come ho fatto non è possibile bravo 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 strabante doppio super cross doppio te l'ha preso come whip dai lo 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 è la madonna bello questo giro 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 minchia minchia però te l'ha preso siamo in piedi ultimo salto dai 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 2 1 0 0 flusso 10 obiettivo sbaccato perfezione ha 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 è il flusso 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 ma spia quant'è fatto 10 ciao madonna ho fatto 10 ho fatto 10 ma dai bene ragazzi mi ha preso questo video si si nooo dai però non è possibile 10 9 39 10 perrucchini fai peggio di me terzo rider prima della guest star di questa sera vai vai vado via fio parte eh ma cosa succedeva eh c'erano i bambini stai registrando? stai registrando? vai 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 non usci per la vita primo whip stop non si è primo non si è whip una specie di whip oh oh ahia confuso ahia non sa dove andare attenzione attenzione lo 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 una cosa non si fa tenere quella di prima eh no ma è curva oh modi strani c'è da sopra ma si basta che sia un po' efficace buona curva buona 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 ah 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 questa vale è doppio eh cioè andiamo a fare droga ci sono preoccupati dove va? triplo Oh! Ma c'è il pezzo allungato Buona! C'è Sergio lì che fa le foto Non l'ha preso Non l'ha preso Sento strano No, è passato da una rampa e da Porsche Ah! Ha fatto il transito Eh! Ora, le statistiche viene Cioè, guarda che roba Vedibile Dove va? Contro la rampa Contro la rampa Bravo, bravo Così, la tiene La ripiscono la testa Si, la inclina sempre Anche nella realtà, ma adesso C'è un po' l'altra parte Bravo, credi già La migliore che hai fatto finora Anche se non te lo segna credi Dove vai, piatta Guarda qua, questa è la migliore No No 16 secondi Dai Facca la mano Buono Buono Eppure Non la presa Non la presa Eh, non riesco Due secondi Uno Si vola Oh 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 939 Ma come è possibile? Con tutti i versi che ho fatto Guarda che Sono incompleto Non è possibile Passa qua 939 Perrucchini Cos'ha sganciato Abbiamo? Sei pronto? Sei concentrato? Come mai? Ce lo puoi fare? Io ci credo Vai Thomas, sto arrivando Thomas comanda Con 10 Sì 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 Bello questo Eh, l'ha preso L'ha preso L'ho preso Ma che è partito a cannone? Dentro degli spalti Madonna Sì 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 Ma cos'è il flusso? Eh Sì Sì Eh Questo è blu Questo è blu Bravo 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 Sì 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 Era difficilissimo Andare lì Bello ma non l'ha preso Ma no ma fa schifo Non è che fa bello Fa bene Fa bene Fa bene No, gli dici era bello Vai La, la, la 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 Buono Nicchia Stacca le mani da Zaludio Scoppa giù Curve da rivedere Buono Un po' strano un po' Strano perchè io freno poi Perché quando ha fatto uno più tempo? Eh Se no a noi 50 l'ho Eh Stai a vedere Mi ha fatto un casino Soprigele sorridere rosa 10 nooo era bella puttana il flusso no è davanti a noi si 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 mette la scorta e chiude non so 10 ragazzi non schiaccio niente 10 puttana 10 939 oh è anche il terzo posto siamo tutti brevi ringrazio il team smooth concept allora ragazzi classifica della serata abbiamo al primo posto come se salva in crisi da un incredibile sviluppo per salvo ok prima marcia da annullare la seconda quasi siamo io e sto peruchino quindi vince il team onda perché voi avete l'onda ciao anche se abbiamo usato l'onda peruchini che capelli c'hai sulla telecamera guarda che capelli ha peruchino con una fiamma allora tutti i link di instagram sotto in descrizione tutti i link di chi? di tutti di voi e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi tu sei in ombra iscriviti al canale